L'autorità idrica toscana ha approvato le nuove tariffe per l'acqua decise nelle settimane scorse dalle sei conferenze territoriali. In quattro casi, ovvero gli exato 1, 2, 5 e 6, sono state recepite le disposizioni dell'autorità nazionale per l'energia e il gas, che ha rimodulato le tariffe dell'acqua per il 2012 e il 2013, anche alla luce del referendum del giugno 2011, quando 27 milioni di italiani votarono per eliminare il profitto dalla gestione dell'acqua. Le altre due conferenze territoriali, quelle servite da Publiacqua e Nuove Acque Spa, hanno invece bocciato le nuove tariffe, lasciando di fatto la palla in mano all'autorità nazionale. Se non facciamo un'operazione nella quale sosteniamo gli investimenti, il sistema va in crisi, non tanto per la remunerazione del capitale, ma quanto per il fatto che i territori hanno bisogno di lavori che vengano fatti, depurazione, sistemi idrici e quant'altro, che debbano essere affrontati. In questo momento chiudere un sistema senza avere un sistema stabile che sia altro è un elemento che diventa drammatico proprio per i territori. Le nuove tariffe, che segnano un aumento generalizzato, seppur minimo, assicurano dunque gli investimenti futuri sia sugli impianti che sulla rete, ma secondo alcuni rappresentanti del Forum dei Movimenti per l'Acqua Bene Comune intervenuti all'inizio dell'incontro, non sono altro che un sistema per calpestare l'esito referendario. In Toscana intanto, Comuni e Regione puntano a raggruppare insieme i soci pubblici dei vari gestori del servizio idrico, in modo che possano dettare la linea sulle tariffe future. Qui ci si stanno assumendo, anche a costo di non essere capiti da parte dei cittadini, le nostre responsabilità a livello locale. Serve che anche lo Stato, su un tema così importante, che ha visto la partecipazione straordinaria di tanti cittadini il giorno del referendum, si assuma le sue e individui magari anche delle risorse attraverso le quali rendere più facile il ritorno alla gestione pubblica dell'acqua.